Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare uno degli ultimi scenari fantasy che abbiamo stampato, che è la casetta di Baba Yaga che vedete qui davanti, poi nel corso del video ve la facciamo vedere da vicino e tutto quanto, e vi mostrerò anche il sito. Elemento scenico, casa addirittura con delle gambe che si muove bellissima, veramente caratteristica, modello 3D da paura, che ci è stato fornito in collaborazione da Printable Sceneri, che noi ringraziamo veramente di cuore, grazie immensamente, è un onore disumano collaborare con voi, ci hanno fornito questa come scenario fantasy e un'altra torre che stiamo stampando piano piano, anche perché è una cosa tipo così, è uno scherzo, ma non vi dico niente, la dovete vedere finita, è colorata la mia moglie. Qui davanti la vedete finita di stampare, tutta quanta colorata ed è venuto veramente un lavoro della madonna, ragazzi è bellissima, sembra quasi la casa di Evil Dead che cammina. Ve ne parlo a breve dopo la sigla. La casetta di Baba Yaga, scenario fantasy, ma la potete usare anche in un'avventura horror, se ci volete giocare di ruolo e non prettamente con le miniature, mi viene l'esempio Warhammer e giochi del genere, Wargame, è, vedete, un elemento scenico veramente spettacolare, molto caratteristico, ovviamente che si apre, e all'interno ci potete tranquillamente mettere miniature per giocare, ah, tra l'altro è in scala, è in scala a 30 mm, quindi ci potete mettere miniature per Age of Sigmar e cose del genere, tra l'altro è anche una figata, vi potete mettere delle regole che si sposta, cammina, ed è veramente fatta bene, poi a parte tutta quanta dipinta colorata, c'è una piccola aggiunta, varie aggiunte insomma che ha fatto mia moglie, quella un pochino più consistente è il muschio, vedete, ci ha messo tutto un po' di muschio qui, di erbetta, come se la casa fosse ovviamente un po' andata, trasandata, uscita dalle lunghe notti del tempo, ed è veramente una figata assurda, e mi piace da morire. Il progetto costa 12,95$, il progetto STL, il file, poi ve lo dovete stampare da soli, ovviamente, però vi viene fuori un elemento scenico di una bellezza unica, e poi, soprattutto, sono di quelle cose, non è tanto il bello o il brutto, perché quella può essere una cosa soggettiva, per quanto, parlando oggettivamente, il modello 3D è fatto veramente bene, però sono di quelle cose che noi abbiamo chiesto queste, l'altra torre che poi vi mostreremo in un altro video, andando a botta sicura, perché è una cosa molto caratteristica, sentite i rumori di stampa, è perché la Genius lavora giorno e notte, quindi ci sarà sempre un po' questo rumorino, per ora, nei video, fino a che non cambieremo ufficio, ma è bella perché caratteristica, non è la car... Cioè, ci aveste tagliato le gambe, l'aveste tirata fuori così, sarebbe comunque bellina un po' questa torre, nello stile un pochino arabo, un po' strano, no? Uscita magari da qualche fantasia gotica, horror, però il fatto di metterci queste zampe, come fossero di gallina, e la casa che si sposta, è veramente di una figata assurda, e mi garba da morire. Gambe di rapace, qualcosa che la fanno spostare in giro per la mappa, e mi immagino già anche una partita Age of Sigmar, dove mettete la regola che magari ogni turno si sposta di 2 o 3 cm sul tavolo, perché tirando magari un dado a deviazione delle catapulte per vedere dove va. Mi ci vengano già delle idee disumane, ed è veramente, veramente, veramente fatta bene. Vi lascio primo link in descrizione, progetto, ma solo il progetto, non andate a comprare la stampata, per acquistarla dal collaboratore Printable Scenery, direttamente, e andate a vedere perché ha una pagina, cioè un sito dedicato a tante ambientazioni, sci-fi, horror, fantasy, addirittura anche della roba ambientata nel West, nel vecchio West con l'ufficio dello sceriffo, il saloon, gotica, quindi ha veramente di tutto e di più per giochi di ruolo e per giochi da tavolo. Ovviamente, ripeto ancora una volta, comprate i file da stampare, quindi dovete avere una stampante 3D o sapere da chi ordinarle. E apro una piccola parentesi, come vedete, nota a video, secondo link in descrizione, il negozio di mia moglie, Electra 3D Print, dove facciamo questi lavori su commissione, quindi iscriveteci, stiamo lavorando abbastanza in questo periodo, e anche ora sta facendo un progetto bello grosso per un cliente. Se la volete stampata o comunque volete altri oggetti del genere stampati, contattateci, che lo facciamo anche appunto per lavoro. Io ringrazio Printable Scenery di averci fornito questo file bellissimo, questo modello 3D veramente disumanamente bello, quell'altro ancora più bello, lo vedrete successivamente, la torre alta così, e secondo me hanno veramente dei pezzi da urlo, hanno anche delle basi spaziali, moonbase, hanno di tutto e di più per giocare tutte le vostre ambientazioni, addirittura per pimpare i vostri board game, perché hanno anche roba di Star Quest, di Space Hulk, hanno veramente un mondo e più. Primo link in descrizione, dateci un occhio. Ciao ragazzi, alla prossima!